Il 1985 è stato proclamato Anno Internazionale della Gioventù. La U della bandiera della FISU, U come Universiade e come Università. L'Universiade Invernale 1985 che si esvogge a Belluno, Cortina, Alleghe, Nevegal, Feltre. Il gigantesco Griff. Il Girono è Feltrino, Unione Sovietica e Finlandia. A snodo, lo sci alpino balza subito in evidenza.